Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del nostro blog questa volta ci occuperemo di due DVD-ROM dedicati ai campioni, ai loop di percussioni orchestrali il primo si chiama Cinematic Percussion e il secondo si chiama Epic Drums sono entrambi prodotti dalla Big Fish Audio che è una dita che sta facendo molto conoscere nel panorama internazionale e che ha realizzato questi ottimi prodotti come vedete i prezzi di ogni singolo pacchetto non sono alti si può acquistare direttamente in download oppure potete ricevere a casa il DVD-ROM contenente i file e sono disponibili questi loops in diversi formati come vedete nel formato Contact, Apple Loop, chiaramente l'immancabile Wave ma anche il formato Rex che è molto utile in quanto ci consente di strecciare i loop modificandone la velocità e adattandoli quindi alle nostre composizioni questo senza che il suono di base del loop venga compromesso sono più che dei loop singoli dei veri e propri kit di costruzione di brani musicali vediamo qui com'è organizzata la directory di ogni DVD abbiamo all'interno di ogni singola cartella dei loop che possiamo combinare fra loro andando a ricreare dei brani pressoché completi dal punto di vista delle percussioni per ogni cartella abbiamo un nome che è molto indicativo per quanto riguarda il contenuto o per quello che potremo poi fare con questi loop percussivi e abbiamo anche indicato il tempo di base in bit per minute leggiamo alcuni titoli abbiamo Kingdom Come, African Safari, Fashion, Tribunal, Aboriginal, Court Martial, Queen Knight, Great Wall, Night Battle, Submergence, Waterfall, Freeform, Fallen Rain, Desert Oasis, Scary Movie, Tension, Special Forces, Victorious, Soleys, Zen Garden, World Jam, Percolarity, Bolero, Island Dance, Parachutes, Religion, Bloodsport, Bravado, Asian Energy, Restless Native e questo in particolare è il contenuto del DVD-ROM che si chiama Cinematic Percussion se visitate il sito della Big Fish Audio potrete ascoltare dei sample e potrete anche effettuare il download di alcuni campioni che potrete utilizzare per testare questo prodotto la comodità di questi loop è data non tanto dal fatto di avere delle percussioni immediatamente a disposizione e già ben suonate anche con un po' di effettistica perché poi non abbiamo la possibilità di adattare troppo queste percussioni alla nostra composizione l'utilità più grande è quella di avere già dei pacchetti diciamo pronti per poi sviluppare a partire da quei pacchetti una composizione possiamo andare ad ascoltare ad esempio un lavoro che ho realizzato recentemente proprio a partire da queste percussioni prova, 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 prova Strumento, vediamo qui che sono indicati, e abbiamo anche un demo generico che ci fa sentire quale può essere la sonorità di questi loop orchestrali se vengono combinati assieme. Ascoltiamo un piccolo pezzo di un brano che ho composto partendo appunto dal loop contenuto in questa directory che si chiama ZenGarden. Quando si compone in questa maniera il lavoro da fare di base, come vedete chiaramente abbiamo utilizzato Cubase per questa demo, il lavoro di base è dare una struttura al brano utilizzando appunto queste percussioni. Quello che abbiamo fatto è appunto, a partire dai loop contenuti in questa directory, cercare di comporre un brano che va poi increscendo, abbiamo dei loop che sono oltretutto predisposti per creare la fine del brano, quindi sono dei colpi secchi percussivi, e intorno poi a queste percussioni così montate abbiamo creato un brano aggiungendo delle tracce utilizzando diversi software, in questo caso abbiamo utilizzato Omnisphere, abbiamo utilizzato Real Guitar e Sample Tank della IK Multimedia. Andiamo ad ascoltare, questi sono solo i loop con un po' di effetto che ci è dato da Altiverb, sono solo i loop appartenenti alla cartella ZenGarden. Questi campioni, questi loop sono davvero molto belli, già da soli possono immergerci, in una determinata atmosfera. Andiamo ad ascoltare quello che è in realtà tutto il brano, che però, ripeto, è stato fatto a partire da questi loop, quindi non è solo una questione di qualità, ma è anche questione di come sono stati progettati, di modo che possano essere di grande ispirazione per comporre. Andiamo ad ascoltare, Anche il DVD-ROM di Epic Drums, che vediamo, la cui copertina vediamo qui nel sito della Big Fish Audio, è organizzato nella stessa maniera, il prezzo, come vedete, è anche lo stesso. La cartella è organizzata nella stessa maniera, i vari loop, i vari kit di loop, chiamiamoli così, perché all'interno di un kit abbiamo dei loop immediatamente compatibili tra loro per formare un brano. Questo chiaramente non ci nega la possibilità di mescolare i loop presenti nei vari kit. Nella cartella principale abbiamo le sottocartelle dei due diversi formati, Wave Acid e il formato Rex, è quello che, diciamo prima, utilizzando anche Cubase, possiamo stretchare. Dopo vedremo come. In questo caso, però, tutte le varie cartelle, ne sono molte, non sono divisi tanto per generi, perché Epic Drums è dedicato di più ai brani epici, e, diciamo, dedicate scene d'azione o di guerra, mentre Cinematic ha un utilizzo più vario, come abbiamo visto prima, era un brano molto d'atmosfere zen o orientali. Epic Drums è più dedicato, invece, a delle sonorità marziali, per così dire. Abbiamo 40 kit di costruzione contenente di loop e ogni kit ha, appunto, diversi loop con diversi tipi di performance. Andiamo ad ascoltare quello che è il demo, ad esempio, fornito per una di queste cartelle, che è quella denominata 160 bpm, che è appunto la velocità del loop. Il demo fornito è il seguente, poi vi farò sentire, invece, quello che è stato, che ho realizzato a partire da questa cartella di loop.